No! 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 Ma vaffanculo va! Ma porca troia! Non è possibile! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa ottava parte di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke! Nello scorso episodio signori miei siamo giunti in Dardask City ma soprattutto abbiamo catturato, riottenuto, l'eroe! John Frog! Signori miei però non è ancora in team perché dovete capire che dopo un periodo di inattività ha bisogno di ricaricare le energie per essere al 100% e questa non è assolutamente una scusa per dirvi che in realtà non avevo voglia di allenarlo fino al 36. Comunque per i prossimi episodi vedrò di metterlo in squadra, difatti la domanda del legione sarà quale Pokémon sacrifichiamo, quale Pokémon releghiamo nel box per far posto all'eroe, quello che... hashtag eroe perché John Frog è l'eroe mentre c'è merda che è il dio e poi c'è l'eroe che è John Frog che è tipo un inviato di merda secondo la religione crepistorisiana appunto e nulla signori miei oggi andremo a battere la palestra avete notato, se non mi si bagassa la tastiera, che ho cambiato il soprannome di Buffalant facendolo diventare Bucefalo mi è piaciuto infatti molto il commento di uno di voi che mi ha consigliato questo soprannome nonostante Bucefalo fosse il cavallo di Alessandro Magno e non il bue o il toro che sia, però ci sta davvero bene come soprannome quindi ho deciso di darglielo comunque, quindi ti ringrazio te non mi ricordo assolutamente il tuo nome ma ti ringrazio e appunto oggi andremo ad affrontare la palestra mi avete detto signori miei che oggi avrei sclerato molto che cazzo mi deve aspettare, sta registrando tutto perfetto, possiamo iniziare bene, cos'è? benvenuto, uso pokemon di tipo no, se uso pokemon di tipo spettro non devo utilizzare il tipo psico comunque signori miei voglio dire una cosa ah si che i pokemon non sono, sono randomizzati tu? tu questa palestra è la più forte di zeri ma dubito fortemente, scusami no, dicevo appunto signori miei che i pokemon, nel scorso episodio dicevo palestra di tipo spettro lo so che sono randomizzati i pokemon però palestra di tipo stretto di tipo stretto no, di tipo spettro nel senso proprio che cioè, è una palestra ecco, spettrale penso di aver capito perché sclererò ah ok, allora abbiamo capito una cosa questi appaiono da questi in realtà non appaiono da nulla cioè appaiono proprio dal nulla più totale allora Tarzan vai è il tuo momento Pursuit gli facciamo malissimo spero davvero di non perdere pokemon signori miei in questo caso non si porrà il problema della DDG quindi no, dicevo quindi adesso io ho un problema di fondo nel senso che se voi non vedete la DDG quella lì vi spoilerò praticamente il il fatto che sia morto un pokemon al contrario se invece fermi tutti no, no non ho le pozioni ma come esco fermi da dove ah ok, ottimo no, dicevo appunto adesso la DDG saprà molto di spoiler nel caso vi avviso che la terrò uguale anche se mi moriranno i pokemon a sto punto perché mi sono mangiato le mani da solo lo sapevo io appena l'ho visto appena l'ho visto mi sono detto questo mi rompe il cazzo allora 10 per pozioni full heal 3 direi ci dovrebbero bastare revive direi che ci sono molto utili perché c'è la freccetta in mezzo allo schermo che bella la vita ok torniamo indietro mi ha preso troppo la lettera a sto gioco ok giustamente appaiono dal nulla questi ha senso ok devo levare anche Randall dal primo posto perché è già a livello 38 cosa hai mandato uh ciao spider tra l'altro raga c'è gente che si è lamentata del soprannome che aveva taurus ma nessuno si è lamentato del fatto che ho chiamato un ragno spider cioè nel senso mi sento mi sento un po' tipo rocet alle prime serie comunque raga qualcuno mi deve spiegare gentilmente per comandato un tipo erba contro un tipo fuoco no sul serio vorrei una spiegazione logica drift ce l'ho pur sweet si ce l'ho perfetto no devi star fermo dai buce grazie grazie troppo gentile ok quella lì giù non so effettivamente se è il capo palestra o è il ritorno all'inizio era il ritorno all'inizio raga come cazzo si fa allora no niente è tornato all'inizio ottimo boh provo l'inverso ok si sta andando bene forse ce la stiamo cava ok perlomeno siamo in una nuova stanza è già un passo avanti ho capito cosa intendeva cosa intendavate quando avete detto che avrei sclerato intendavate questo tu hai fottuti i pokemon di quello di prima sono abbastanza sicuro non è che sei quello di prima che mi ha risfidato un'altra volta mi verrebbe la ooooo ooooo thunderbolt tanta roba signori miei tanta roba soprattutto per il fatto che comunque in questi giochi qua non c'è la differenza fra fisico speciale o meglio c'è ma dipende non dalla mossa bensì dal tipo della mossa stessa quindi tanta roba allora prendiamo il fortunuovo da questo qui e ridiamolo a Sasha si ce l'ho fatta ok perfetto non ci speravo nemmeno sinceramente allora calma tutti adesso ho innanzitutto dei left no ma io sto passando il fortunuovo quindi farei casino allora fermi hyper potion su tutti non mi interessa tanto mi sono fatto i big money con gli allenatori e me li farò anche col capo palestra sperando di vincere ok bene caro thomas benvenuto alla palestra di dardask ho bisogno di affrontare di lottare alla mia piena potenza per distruggerti per sconfiggerti si quello che è ok mettiamoci composti parte la sfida di thomas hai 4 pokemon e parti con sti cazzi al 35 al 35 cioè sei così alto di livello benissimo benissimo per fortuna che dei pokemon scarsucci buisol va giù drift ok allora mi va bene per i pokemon ma raga livello 40 va il plume livello 37 fermi tutti allora sia mando te non ho voglia di rischiare assolutamente raga che livelli cazzo mi sa che mi devo mettere ad allenare il team principale perché qua finisce male ok l'abbiamo battuto molto rapidamente però raga è davvero incredibile creepy otteniamo la medaglia vabbè medaglia fantasma non so fantasia di un morto che cammina allora ci da shadow ball io sono curioso di sapere se esatto sia la puoi imparare la puoi imparare direi di levare nightshade finalmente che sta diventando un po' inutile allora ora mi chiedo potrò andare in quella torre dove prima non potevo entrare o sarà inutile esattamente come prima vediamo un po' posso entrarci oh 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 calma lens giudicando il tuo aspetto tu devi essere creepy il mio nome potrebbe esserti familiare ma guarda davvero I'm lens sono lens io sono il campione sia della regione di kanto che quella di yoto sono sono venuto alla torre del guardiano perché ci sono dei perché si dice che il team steam si è cercando di rubare alcune reliquie per imparare di più sui pokemon leggendari controllerò lì dentro adesso ma sarebbe carino se tu mi aiutassi creepy andiamo dragonite oddio raga stavo giusto per dire è partita una musichetta classica tipo del team malvagio minchia appare lens così a caso oh cattura cattura fermi misdrivas misdrivas non mi piace cioè nel senso misdrivas non è pessimo però poteva andarci meglio diciamo anche perché penso che si siano che qua non si è randomizzato intanto ah cazzo speravo di averlo preso eh questo come lo chiamo adesso bella domanda lo chiamo lo chiamo oddio aspettate lo chiamo lo chiamo eh merda c'avevo raga c'avevo il nome eh mi sfugge mi sfugge a parte che è femmina quindi c'è maschio quindi non ha senso il soprannome che voglio dare eh perché canta lui canta e terrorizza le persone eh c'è i bambini vabbè dov'è l'apostrofo dov'è l'apostrofo eccolo qua allora visto che canta e terrorizza i bambini lo chiamiamo D'Alessio D'Alessio perché Gigi non ci stava perfetto la miglior cattura del secolo guardate no comunque a parte gli scherzi che figo sto posto fermi tutti qua c'è uno strumento si no non sono randomizzati qua dentro vabbè rag ormai abbiamo capito che si randomizzano a minchia a minchia totalmente a minchia ogni tanto sono randomizzati ogni tanto no sciapet tra l'altro ragazzi c'è una bellissima teoria su sciapet ora se lo ritroviamo vi farei anche vedere dai su forza vieni fuori ecco se guardate sciuppet ragazzi o sciapet come volete chiamarlo ha quella protuberanza che si ritrova in testa secondo una teoria che avevo trovato su internet sciuppet o sciapet non sarebbe nient'altro che un rotom rivestito di un diciamo lenzuolo ecco infatti se vedete anche il rotom c'è questo corno che gli spunta dalla testa e gli occhi di sciupet sembrano tipo non lo so elettrizzati però boh è una teoria che ho trovato in giro no ascoltate siete troppo forti però recover io però ho paura di una sola cosa ok perfetto waterpulse io avevo vi giuro che avevo il terro dai dai sapdos ma cosa io ho paura ice beam dimmi che vai giù vai giù vero muori si ok perfetto dio mio celebi ma tu sei un drogato ma basta execute e poi giustamente execute due leggendari nel team ma cosa ma cosa ma voi siete pazzi fermi fatemelo buttare giù che salgo al 39 oddio reclute pazzi con i leggendari dal nulla intanto lì c'è uno strumento vediamo un po' che cos'è una premier ball signori miei tra l'altro non so se anche voi pensavate che la premier ball fosse tipo una pokeball speciale invece poi ultimamente ho scoperto che in realtà è una pokeball di merda che non serve a nulla nel frattempo gastrodonte è andato giù flygon flygon devo tenere per forza sasha perché altrimenti non lo butto giù più jolteon ok fermi proviamo a mandare spider che non ha ancora combattuto edbat non mi paralizzare edbat di nuovo ti picchio sangue lo sapevo ci avrei scommesso le palle ok perfetto è morto ottimo cinciuchiera oddio le amnesie signori miei fermi tutti mi sta schiattando il ragno il ragno nel senso stretto della parola oh è andato giù anche cinciu perfetto oddio raga i livelli sono aumentati tantissimo penso di fare un pochino di livellaggio sperando di avere il tempo a disposizione no ancora voi madonna siete già mi state facendo salire il nazismo il team steam sta cercando la conquista il potere l'invincibilità bene mi fa piacere basta che non lo so volete avere un altro mailotic ditemelo se volete bravo spider celebi perché si bugga sto randomizzatore perché ma io cosa gli ho fatto di male ma c'è tutti gli stessi pokemon ma com'è possibile muori vai giù e figurati se non si cu ah se funziona così che ti posso insultare per non curarti lo faccio sempre ottimo allora si oggi si è buggato come se non ci fosse un domani tm04 calmamente ce l'ho già quindi tra l'altro penso che sia la seconda che trovo quindi gg a me uh dascal che bello ciao sprizzi è stato un piacere sono stata eh esatto sei stata battuta da lens in pratica ok perfetto aspettate questa qui è una fottutissima generale quindi vuol dire che siamo vicini al posto dove dobbiamo arrivare ce l'hai la madre puttana ce l'hai eh cosa ci devo fare io allora fermi iperpozione su spider dai spider ce la possiamo fare su 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 nightshade leech life porca troia no spider sta morendo fermi tutti ma andiamo no 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 vaffanculo va ma porca troia non è possibile ma dai con il seguimento ma ammazzati col gas figlio di puttana nei campi ti mando dio mio ma raga ma cristo dio ma cristo dio ma che due coglioni dai ma così fa schifo morire così fa schifo davvero devi essere proprio merda per farmi schiattare così lo riesco a buttare giù si ce la facciamo dai ma che che sfiga di merda in seguimento catroia ebbè perlomeno è morto spider se devo essere sarò cini come è morto il più scarso del team intro forza no intro forza non si capisce mai un cazzo di sta mossa mi ricordi un grande allenatore ma te posso te posso sconfiggerti ah no non era un generale perfetto erano reclute normali ottimo provo un taglio ho capito quando dicevate che mi dovevo no 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 figlioli cari ascoltatemi e hyper push no leech life no 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 fai schifo nell'anima posso switchare dimmi che posso switchare ok perfetto leech life minchia ti tiro un'incornata che ti spedisco in antartide clamper pure te via no cosa ha fatto cosa fa cosa fa cosa fa no no mi stanno aprendo mi stanno aprendo cos'è sta mossa di merda cos'è perchè un clamper dovrebbe quasi buttarmi giù mezzo team dio mio eeeh gesù ultima pozione ciao speriamo che ci vada bene cristo dio ma levati candela infa ce l'ha un repellente tra l'altro no così dal nulla chi lo sa eh figurati basta siete troppi siete troppi troppi e soprattutto troppo forti vapore non è il ventesimo che incontro oggi incredibile giù ok vula e nulla si è buggato di nuovo però io stavolta vula mi ti mando a casa diretto oh muori eeeh palchia metticelo sul galeo tanto tanto ormai cosa mi ne fai no ho sbagliato pokemon mannaggia a me stesso non ci credo attaccati ok perfetto ce l'ho fatta fermi 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 dimmi che si ce l'ho ok me lo gioco fote sega via oh sette punti esperienza pensa a te pensa a te che vita di merda ok un attimo ora allora ok ok raga stop un attimo vado a curarmi ok raga siccome sono scemo non mi sono accorto che stavo andando avanti e ho cominciato a affrontare il reclute comunque allora intanto ho depositato spider e ho messo in squadra john frog col condivido esperienza in modo tale che magari possa crescere un pochino comunque avete visto che si è evoluto lo vedete anche di già nella sidebar spero e nulla proseguiamo sperando di non sclerare troppo ma io ormai ci ho perso le speranze giustamente lì c'era un hyper potion comunque si mi sono preso anche i rimedi allora ghastly perfetto madonna raga sto posto qua è tutto dannatamente uguale però oddio e poi ci sono centomila reclute sì certo io lo tengo guarda sicuro sono così scemo che thunderbolt vai giù vai giù ole perfetto livello 39 john frog a livello 26 dai eroe tra l'altro ragazzi vorrei evolverlo se riesco in polited però sinceramente non so se si può tenere in questo gioco quindi magari fatemi sapere con un commento perché ho chiesto anche sul gruppo telegram dal quale vi invito a passare micchia fallito sky uppercut ma mi moriva randal sono sicuro al cento per cento mi sarebbe morto ma sicuro e appunto no stavo dicendo non mi hanno saputo dare una risposta definitiva diciamo quindi non lo so se qualcuno se ne intende di randomizzazioni mi faccia sapere questo era un cazzo di generale ok forse ce l'abbiamo fatta allora ferma donna raga che sofferenza eccolo qua lens minchia raga a prima vista pensavo fosse n mio dio creepy non immaginavo che il team steam potesse soggiogare un pokemon leggendario come lugia ora stanno provando a catturarlo penso che sia il momento di firmare tutto ciò creepy cazzo sei tu bene bambino bene piccolo ragazzino devi essere colui che sta distruggendo i piani del team steam metterò un punto di fermerò i put stop metterò una fine a tutto ciò quando ti batterò in uno schiocco di dita tipo davanti al tuo amico prepara ad affrontare kytlan uno dei leader del team steam perfetto raga ne abbiamo scoperto un altro ti distruggerò dopo catturerò lugia una cazzo di hostess grimer perfetto livello 40 li alleno li alleno fottutamente dio mio raga che potenza sti qua ma non me l'aspettavo c'è stata una crescita di livelli impressionante john frog livello 27 si nel frattempo no sul serio c'è stata una crescita di livelli spropositata e insensata soprattutto dal nulla comunque l'ho vinta perchè aveva randomizzato gli random oddio gli ha randomizzato i pokemon di merda ok sono impressionato dalla tua abilità e sono impressionato dalla tua merda che c'è in squadra potresti diventare un campione pokemon penso si tipo ora che i miei pokemon non sono più in grado di combattere sarà impossibile per il team steam catturare lugia distruggerò distruggerà tutta questa città con la sua rabbia cazzo mi sa che sia nella merda eccolo qua lugia tra l'altro lugia è dalla parte di oh oh non so se è voluta sta l'ho chiamato l'ho chiamato decisamente ok si stanno picchiando a sangue penso sta tremando tutto vediamo se arriva anche in questo caso arceus ok lugia gli ha dato un bacino probabilmente oh oh ricambia è comunque una storia d'amore migliore di twilight questa è una battuta mainstream che non fa nessuno sul serio mi stanno sbucando le palle in cina da quanto stanno cadendo oddio oddio era quotato a zero non me lo sarei mai aspettato incredibile davvero è apparso arceus per la cazzo di terza volta in questa serie l'incredibile potere di arceus è riuscito a fermare la battaglia tra oh oh e lugia i due i due grandi pokemon leggendari fantastico non posso credere che ho sprecato l'opportunità di catturarli ma i miei pokemon sono sofferenti ora devo andare ma ci incontreremo presto wow non sapevo che i pokemon leggendari avessero tutto questo potere sono della tua cazzo di regione dovresti sapere ogni singola cosa grazie per aiutarmi creepy per avermi aiutato creepy inseguirò il team steam per porre una fine alla loro minaccia ti riporto al pokemon center oh grazie lens una persona che mi vuole bene uff dio mio comunque signori miei comunque comunque vorrei vedere se si può fare una cattura magari qua esatto raga direi di farci la cattura così almeno concludiamo in bellezza e di stoppare se solo avessi ok 9 ultra vuol dire e poi questo percorso lo esploriamo dopo attenzione sei serio un altro ghastly c'è un altro ghastly nel senso vabbè vediamo chi altro c'era draw perché perché è tipo lo scenario di battaglia che c'era nella torre che cosa triste tra l'altro penso che abbia smesso un'altra volta di randomizzare signori miei ha randomizzato a sprazi non c'è un cazzo da fare nulla in sterbaco non c'è una minchia di nulla per il prossimo episodio tra l'altro a sto punto mal che vada super pozione tu invece hai un'utilità intrinseca che non cosa è tutto questo per farci dire che il lago è ottimo per pescare giusto signori miei io spero che questo episodio comunque vi sia piaciuto se è così vi invito come se lasciate un bel mi piace a commentare e a iscrivervi al canale se lo avete ancora fatto mi raccomando rispondete alla domanda del giorno che è qua sotto nella sidebar donate per la cura della dislessia passate ai social che trovate in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video adeo di un prossimo video